Regione Toscana, il Consiglio regionale. Approvata all'unanimità con 39 voti favorevoli la proposta di legge sulla cannabis terapeutica. La legge toscana, illustrata in aula da Enrico Sostegni del PD, che ha visto come primo fermatario il consigliere Jacopo Melio del PD, si rivolge al personale sanitario con nuove norme che vanno nella direzione di promuovere un'adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi, per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del sistema sanitario regionale. C'è stato un lavoro importante in commissione che è partito da un dato, cioè la Toscana è stata la prima regione a permettere l'uso medico dei farmaci a base di cannabinoidi, ciò nonostante c'è necessità di una maggiore diffusione intanto della conoscenza, delle modalità prescrittive. E quindi con questa norma, che abbiamo approvato in consiglio regionale all'unanimità, si va a dire che si dovrebbero inserire, che è bene che si inseriscano nei piani di formazione del personale del sistema sanitario regionale, dipendenti e convenzionati, quindi anche medici di base, tutta una parte di conoscenza sull'uso e le modalità prescrittive di questa tipologia di farmaci, per diffonderne l'utilizzo laddove è necessario. Dall'altra parte c'è un tema di approvvigionamento importante, per questo abbiamo approvato una mozione che richiama la Giunta a valutare con attenzione tutte le strade che possono permettere di aumentarne la produzione in Toscana, perché sappiamo che dobbiamo comprarla dall'estero e anche questo spesso non basta, e quindi una politica specifica per aumentarne la produzione in loro. Il consiglio regionale ha risposto in maniera estremamente positiva, votando all'unanimità questa proposta di legge, che andrà ad inserire all'interno nel percorso di formazione continua offerto dalla regione ai medici di base, anche un percorso di preparazione sui medicinali cannabinoidi e quindi si va a combattere quelle remore culturali che ancora oggi purtroppo impedivano la somministrazione di quello che è un vero e proprio farmaco salvavita a migliaia di cittadine e di cittadine che potranno così trarre un enorme beneficio da questo principio attivo. È un problema che aveva attivamente impegnato la ex ministra del Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo, che venne proprio all'Istituto Militare per cercare di capire quali fossero le quantità che si potevano produrre e soprattutto trasformare a scopo terapeutico. Bisogna abbandonare una volta per tutte quelle manipolazioni, quelle strumentazioni che vengono fatte ogni volta che si parla di cannabis. L'utilizzo terapeutico della cannabis è una delle soluzioni per alcune persone, forse l'unica, per riuscire ad alleviare dolore o comunque sia lenire problemi di natura sanitaria che essi hanno. Quindi formare il personale a un utilizzo attento e soprattutto alternativo alle normali principi farmacologici è sicuramente da promuoversi. A questo punto va promossa anche la produzione. Abbiamo presentato un emendamento alla mozione del collega Melio, che impegna a cercare una soluzione per quanto riguarda quella parte di infiorescenze, che sono la parte più problematica, che vengono prodotte in eccesso da coloro che producono cannabis o che producono cannabis per altri scopi, magari di natura industriale, e che invece di essere distrutti o costituire un problema per la componente psicotropa che contengono, possono essere al contrario utilizzati, magari come dati agli istituti che la trasformano per poter essere utilizzati. E' quel famoso passaggio dal privato al pubblico, quell'interazione e partenariato che appunto l'ex ministra Grillo aveva già promosso. E' emerso naturalmente una visione tecnica, nel senso che la cannabis per scopi terapeutici è sicuramente un presidio che dobbiamo assolutamente validare come medici e come politici. Come medici tecnicamente dobbiamo conoscerla, perché ci fidiamo delle cose che conosciamo. Come politici ovviamente dobbiamo dare gli strumenti ai medici, cioè ai tecnici, perché questo possa diventare realtà. Oggi abbiamo sostanzialmente dibattuto in termini abbastanza precisi, cioè la cannabis per scopi terapeutici. Scopi terapeutici è una parte che molto spesso adesso non viene utilizzata per una certa titubanza, per una certa sorta di mancanza di cultura, di cultura medica riguardo a questo presidio. Invece purtroppo ce n'è bisogno, in quanto ovviamente la cannabis può essere utilizzata in quelle forme di sla, in quelle forme di cure palliative che molto spesso aiutano persone che soffrono veramente molto. Intanto dobbiamo, quando si affronta questo tema, sgombrare il campo e dire che si parla appunto di cannabis medica, che deve essere prescritta da un medico abilitato a questo tipo di prescrizione, non c'entra niente con il dibattito sulla liberalizzazione delle droghe leggere, sono due mondi completamente differenti. Da questo punto di vista la proposta di legge che oggi il Consiglio regionale ha approvato su una proposta di cui il primo firmatario Jacopo Melio va nella direzione di accrescere la formazione nei confronti del personale sanitario toscano proprio rispetto alle prerogative e all'importanza di utilizzo della cannabis medica. Molti medici non sono consapevolmente aggiornati su questa tematica, non sono tecnicamente aggiornati su questa tematica, quindi è giusto che il sistema sanitario regionale si metta in pari e preveda un aggiornamento nei confronti del personale sanitario. Ed è un tema. L'altro tema è quello della carenza grave di cannabis medica, tanto che non può rispondere alla quantità prodotta, non può assolutamente corrispondere alle esigenze dei pazienti che ne fanno uso e che ne devono fare uso, sottoponendo gli stessi a una rincorsa la mattina presto davanti alle farmacie ospedaliere che non è dignitosa e che comunque non va in questa direzione. L'unica struttura abilitata alla produzione di cannabis medica in Italia è l'istituto farmaceutico militare Fiorentino. Da questo punto di vista penso che la regione toscana non fosse altro per questo motivo, deve essere a vanguardia e mettersi come regione pilota verso una battaglia che è prima di tutto una battaglia culturale e che poi è una battaglia di civiltà nei confronti di tanti pazienti che possano utilizzare quel tipo di appunto medicinale avendo degli effetti diretti, importanti e tangibili. Questo è un tema a me caro perché negli anni in cui sono stato presidente della Commissione Sanità abbiamo lavorato perché questo potesse diventare all'interno del programma sociale della nostra regione è una questione non soltanto di principio ma reale e quindi è stata attuata una politica importante che porta alla conoscenza, allo sviluppo, alla sensibilizzazione dell'utilizzo della cannabis per fini terapeutici. Noi sappiamo che il dolore di per sé è un alert nel corpo delle persone, non si deve convivere con il dolore, il dolore è una spia che quando si accende ti dà un segnale se si può sopperire al dolore lo si può utilizzare per fini terapeutici. La cannabis è importante farlo, serve cultura, serve formazione, serve che il personale ne abbia consapevolezza non soltanto nell'accezione cosiddetto del fine vita ma anche nell'accezione dell'utilizzo durante le patologie all'interno prima nelle fasi appunto terapeutiche una volta individuata o diciamo una diagnosi che viene accertata. Per fare questo serve consapevolezza, formazione, serve che la medicina di base ne sia consapevole, serve nel territorio, serve soprattutto nelle ospedali di comunità e serve essenzialmente produzione. La Toscana e Firenze hanno un centro d'eccellenza sulla produzione che va incentivata non soltanto ovviamente per la Toscana in primis per noi stessi ma anche a livello nazionale. Questo può apportare lavoro ma soprattutto può apportare sollievo a tante persone che soffrono. Il Consiglio regionale della Toscana consegna il Pegaso ai cuochi che saranno in gara a Rimini per i prossimi campionati della cucina italiana. Dal 27 al 30 marzo del 2022 infatti Rimini diventerà la capitale della cucina italiana e i migliori chef del panorama nazionale si sfideranno nella preparazione di sublimi ricette. La delegazione toscana che punta sui prodotti tipici del territorio quest'anno proverà a vincere la competizione che si basa per la prima volta su regolamenti internazionali che parlano soprattutto di qualità dei prodotti e di bontà del piatto mentre anni fa si giocava molto anche nella tecnica e nella presentazione con ricette che sembravano più opere d'arte e meno piatti da mangiare tutti i giorni. Io oggi ho voluto ricevere, salutare, fare un grande in bocca al lupo ai nostri cuochi che sono certo porteranno in alto il nome della Toscana a Rimini alla fine del mese. Un grande in bocca al lupo e ho voluto consegnargli il nostro Pegaso alato. Il Pegaso alato è il simbolo di quello che è la Toscana ben radicata nella storia, nei valori, nelle tradizioni ma anche con la capacità di innovare e guardare al futuro esattamente come la loro cucina che parte dai prodotti tipici del nostro territorio e tenta di rimetterli insieme per consentire di vivere a ciascuno di noi esperienze che ci toccano e che rendono più belle anche le nostre giornate. Io sono certo che con i nostri prodotti, con la loro maestria con la capacità di saper toccare il cuore di chi poi giudicherà potranno tornare a casa con risultati importanti. Ci aspetta grandi risultati perché partono da una grande storia partono da grandi prodotti che questa nostra terra fortunatamente gli fornisce c'è una grande tradizione in Toscana, è stato fatto negli ultimi anni un grandissimo lavoro davvero da parte di tutte le federazioni sono cresciuti donne e uomini che ci rendono orgogliosi proprio dei prodotti che noi dobbiamo continuare a mantenere in quella genuinità e in quella bontà che ci invidiano in tutto il giorno. Loro saranno bravissimi e sicuramente avranno la Toscana nel cuore. Da parte nostra un grande in bocca al lupo e grazie comunque per rappresentarci. Una competizione nazionale è basata sui regolamenti internazionali quest'anno per la prima volta e siamo molto contenti perché sappiamo di giocarcela proprio con tutte le armi che abbiamo perché quest'anno nei regolamenti si parla soprattutto di qualità dei prodotti e di bontà del piatto, si gioca molto su questo mentre anni fa si giocava anche molto nella tecnica, nella presentazione però sembravano più opere d'arte e meno piatti da mangiare tutti i giorni. Quest'anno si gioca invece più sulla bontà quindi sappiamo di giocarcela tutta perché abbiamo dei grandi prodotti che esprimono la toscanità e esprimono il valore e l'esperienza di questi cuochi che sono anni che lavorano e che quindi possono raccontare tanto attraverso il piatto. Pisa che si valorizza con la nuova aerostazione in vista di diventare sempre più il consolidato riferimento dei voli intercontinentali dalla Toscana e dall'altra Firenze che nella sua funzione City Airport vede la pista in una dimensione che è quella dello stesso aeroporto con la stessa aerostazione, lo stesso parcheggio ma orientata in modo diverso esattamente orientata in modo declinato rispetto all'autostrada non più parallelo declinata quindi con una pista che va ad essere di 2.200 metri e non 2.400 come avevamo previsto con un cono di volo che non tocca più Prato non tocca più l'estremo sud del comune di Sesto si orienta invece per intendersi verso la zona naturistica di Focognano e della montagnola dell'ex discarica di Case Passerini in questo caso quindi maggiore correttezza da un punto di vista ambientale minore inquinamento acustico oggi il cono di volo è su 50.000 persone in quel caso non arrivano nemmeno a 1.000 le persone il cono di volo e maggiore sicurezza perché con una pista di qualche centinaio di metri più lunga gli aerei non sono costretti a fare quelle frenate pazzesche che vediamo oggi quando si parte ma soprattutto quando si atterra da Peretola